Salve a tutti ragazzi e bentornati su Michi Tuning, è tanto tempo che non porto un canale sul video, si un canale sul video, un video sul canale Salve a tutti ragazzi e bentornati su Michi Tuning, è tantissimo tempo che non porto un video sul canale e con questa occasione vorrei anche augurarvi delle buone feste passate, in quanto è stato Natale pochi giorni fa e buone feste per quelle che verranno prossimamente, inoltre con questo video voglio farvi vedere un prodotto che ho comprato per la macchina, un piccolo regalino di Natale che vi ho fatto, è veramente economico, ho comprato su Amazon e vi lascio il link sotto in descrizione, penso che sia un prodotto veramente utile che molti di voi potrebbero apprezzare. Quello di cui andremo a vedere a momenti è un organizer, un organizer ovvero organizzatore per la macchina, qui dentro potremo andare a metterci tutti i prodotti che vogliamo, si va ad alloggiare sullo schienale della seduta posteriore, quindi uno alza il baule e ha accesso a queste tasche aggiuntive dove dentro ci possiamo riporre tutti gli oggetti che ci servono durante la marcia, che ci possono servire quando siamo in viaggio, cose così. Io l'ho preso più che altro perché magari quando vado, che ne so, randomicamente all'autolavaggio, magari vorrei sempre avere con me una spugnetta, un panno per asciugare la macchina, qualche prodotto per la macchina o magari anche un posto dove ricorrere degli attrezzi per smontare una ruota o quando sto in giro, magari buco, ingrattamosi e cose così. Detto questo, andiamolo a vedere se si apre, qui troviamo vari bigliettini di cui non ce ne frega niente, questo è l'organizer, veramente veramente semplice. Io direi che per andarlo a vedere correttamente ci spostiamo in macchina e lo vediamo direttamente montato, tanto per montarlo è veramente easy. Ok, ragazzo team. È veramente semplice e pratico, ho notato che qui dietro abbiamo anche degli strap, quindi volendo si potrebbero applicare degli strap biadesivi sullo schienale, così da tenerlo fisso. Io adesso a disposizione non ne ho, vedo che in dotazione non li danno, questa cosa è un po' un dispiacere, ecco perché poteva essere molto interessante trovarli già all'interno. E detto questo, voglio provare un attimo a riempirlo di roba, così vediamo un po' come sta, ecco. Finalmente ho riempito un pochino questo organizer, ho tolto tutto quello che avevo dentro quel sacchettino a strap che si tiene qua dentro ma che va a destra e a sinistra. Qui dentro ci ho messo il compressorino, un po' di robetta, anche un po' di cose per pulire la macchina. Piano piano popolerò completamente l'organizer. Detto questo ragazzi, io vi saluto, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Mitch Tuning vi saluta, iscrivetevi su YouTube, seguitemi su Instagram. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi.